Allora, Iuri Romano, due su due qui in Olanda, seconda vittoria oggi con la Cina, una partita che non era da sottovalutare e così è stato per l'Italia. Sì, sì, siamo pariti molto bene e loro ci hanno regalato anche un po' di cose, però siamo stati lì anche nell'ultimo set dove è stato più punto a punto, siamo stati bravi a giocarcela e poi a vincerlo alla fine ai vantaggi. Quindi una buona prova e una vittoria importante sempre per la classifica. Dopo la vittoria di carattere di ieri e quella più tranquilla di oggi, ci sono altre due partite importanti con Serbia e Polonia, le ultime due di questa week? Sì, dobbiamo partire da quello di buono che abbiamo fatto in queste due partite, migliorare ancora qualcosina e poi cercare di vincere anche le prossime due partite per andare nelle Filippine con una buona classifica.